Buongiorno a tutti e a tutti, finalmente oggi si vlogga. Ragazzi, ho da raccontarvi un sacco di cose. Stavo aprendo un po' di pacchi che mi erano arrivati e che in questi giorni avevo semplicemente accadastato perché vi spiego cosa è successo. Allora, oggi è domenica 14, io lunedì 8 di aprile sono partita per Parigi e sono tornata all'11, verso quasi l'una più o meno, tra prendere il bagaglio, tornare a casa dell'aeroporto e bla bla bla. Sera stessa mi sono dovuta lavare i capelli, fare tutte cose, perché il giorno dopo avevo un evento a Bergamo insieme a Mulac dove tra l'altro vi ringrazio perché siete stati tantissimi, attentissimi alle mini masterclass che abbiamo fatto degli altri ragazzi quindi è stato uno sforzo ripagato proprio a pieno e appunto infatti il 12 sono dovuta andare in stazione, prendere il treno per Milano, fare il cambio per Bergamo, insomma è stato un po' così. Ce l'abbiamo fatta e appunto ripeto sono molto soddisfatta di tutto. Sono stata una notte a Bergamo e poi ieri sono tornata a casa, a casina. L'unico problema è che c'è un disastro, vedete lì sopra, ho appoggiato gli acquisti di Parigi dove tra l'altro oggi pomeriggio devo tirarvi il video. Qui appunto stavo spacchettando un po' di cose, qua vabbè non parliamone, cioè ragazzi devo mettere a posto tutto. Però visto che sono ancora mezza trambata, stamattina voglio andare al cinema e dico stamattina così appunto pomeriggio riesco a fare tutte le altre cose. Vado a vedermi Aster, adoro questi film prevedibili e con un finale scontato. Tira proprio fuori la teenager che è in me e poi sono curiosa perché mi avete detto in tantissimi quelli che hanno letto i libri che il film è molto, non fatto male, però che ci azzecca forse poco. Quindi andremo a vedere. Adesso sono esattamente le 11 e 16 e il film c'è tipo alle 12 e 20. Qui c'è il mio cagnolino, è vero? Che da quando sono tornata non si stacca più dalla mami. E qui mi sono arrivati appunto i nuovi rossetti di neve. Qua c'è un altro set di Cosmify perché vi spiego. A Parigi me ne sono cascati due nel lavandino e non sono più riuscita a prenderli ed erano i miei due preferiti. Questi due centrali perché con questo piatto ci faccio la cut crease e viene benissimo. E questo è quello da sfumatura. E qui invece Gaia, sempre con Cosmify, mi ha mandato i suoi rossettini nuovi. Eccoli qua. Il ragazzi, il pack è qualcosa di fenomenale, bellissimo. E appunto avrò modo di provare tutti e dieci i rossetti. Ho arrivato al cinema, come vedete dal pavimento ha piovuto ed è bellissimo perché a quest'ora non c'è nessuno. Tra l'altro ho rinfrescato tantissimo. Io appunto sono stata a Parigi e facevo un freddo, raga, cane. Però io ero coperta, Giulie che era con me invece stava con il giochettino di pelle. Se l'ha fatta sotto. Adesso vado, prendo il biglietto. Non so se prendono anche qualcosa da mangiare perché non ho fatto in tempo a mettere nulla in borsa. E andiamo a vedere after. A parte che è meraviglioso avere la sala tutta per sé, in tutti i sensi. Ho fatto un po' la porca, ho preso Coca-Cola, Popcorn piccolini e lo dog. Sì ragazzi, io vi ho detto che ad oggi ricominciamo la dieta. Vabbè. Comunque adesso aspetto che inizia il film e poi dopo vi raccontrò le mie impressioni. Ragazzi fine prima parte, cioè è possibile che io riesca a piangere anche con questi film. Allora per ora vi dico la mia. Mi piace abbastanza, è abbastanza scontato, cioè è scontato al punto giusto. Però ci sono troppi attimi di silenzio, cioè finora hanno fatto tipo un totale di, non so, 20 battute in un'ora è qualcosa. Però sapete cosa mi è venuta voglia? Di leggere i libri perché sono sicura tipo siano stupendi. Quindi quando finirò di leggere quel di Game of Thrones, che è tra l'altro PS del PS ragazzi, domani, anzi oggi, in America esce la prima puntata dell'ottava stagione. Spero appunto domani di riuscirla a vedere. Sono impaziente ragazzi. Quanto tempo è che stiamo aspettando questa stagione? Più di un anno, molto più di un anno. Eccosi macchina, la recensione finale di After. Verso la fine è molto più scontato che all'inizio probabilmente. Però è anche vero che nella seconda succede una cosa un po' che però comunque ci si poteva benissimo arrivare. Quindi io spero che facciano il secondo perché è finito un po' flat. Cioè allora, io mi sono emozionata, ho pianto in certi punti perché mi sono ritrovata tanto. Sei e mezzo su dieci proprio andando alla grandissima. E mi dispiace perché comunque l'attrice lei è bravissima, mi ha piaciuto un sacco. Lui un pochino meno, cioè come fisicità ci poteva anche stare nel personaggio. Però mi è mancata quella verve, quella verve. Che poi ho scoperto che lui da piccola, probabilmente nel principio di mezzo sangue, ha interpretato Tom Riddle da piccolo. E questa cosa mi ha sconvolto perché non me lo immaginavo. Quindi vabbè, questo è per il film. Poi voi fatemi sapere cosa ne pensate. Se nel commento ci sono cose spoiler, scrivetelo all'inizio. Così evitiamo di spoilerare appunto tutto il film a chi magari lo vuole ancora vedere. Ne ho visti di meglio, di questo genere qua. Però adoro, e vabbè qui partirà un mezzo spoiler. Io adoro i film dove all'inizio i due si odiano e poi si amano. Visto che si è fatta una certa, sta anche iniziando a fare caldo. Io sono uscita con la pelliccetta, vabbè. Adesso torno a casa che devo girare il video acquisti delle cose di Paris. E poi devo mettere a posto tutta la mia camera. Stavo parlando un po' con voi in direct e tutti rimasti delusi da questo film. Quindi bene, vedete, non sono l'unica. E ho scoperto anche che stasera, in contemporanea con l'America su Sky, trasmettono la prima puntata di Game of Thrones. Io non so se riuscirò a restare sveglia, proprio perché, cioè, guardate le mie borse. Io non ho mai avuto queste borse qua. E non lo so se crollerò prima. Ma se riesco a registrare, sicuramente lo guardo. Altrimenti io posso registrarlo. Lo registro e lo guardo domani. Tocca a metà posto, tocca a metà posto. Prima faccio dei lavori al computer che devo mandare dei documenti pronti per il cambiamento. Voi spesso mi chiedete di registrare quando metto a posto la camera, il decluttering, eccetera, eccetera. Solo che, raga, io quando metto a posto la camera ci metto le ore perché poi mi perdo, mi annoio, poi mi stoppo. Cioè, verrebbe davvero una cosa immensa. Promesso che il decluttering magari più avanti lo rifarò perché comunque ci sono già dei video come questi sul canale. Però appunto adesso metto a posto, mi do una truccata e poi faccio il video acquisti. Guardate che belli. Ho sbocciato i rossettini, così qua di Gaia. Anche sulla mano sono spettacolari. Così ve li straconsiglio per ora. E poi non ho fatto un test impegnativo e cose. Però, sai, anche solo che sono confortevoli e facili da stendere. Non è facile. Ok. Poi, oggi Instagram, ragazzi, ha un mental breakdown più di me. E quindi non carica le storie. Me ne ha caricata solo una dove così, a merda, a un certo punto escono gli swatch dei rossetti senza nessuna spiegazione. Quindi, no, grazie Instagram, sei favola, wow. Infatti già prima dal cinema stavo vedendo che non mi faceva proprio entrare. E mi sono detto, ok, magari, non lo so, ho finito i giga. Anche se mi sembrava strano perché ne ho tipo 60. Quindi dico, mh. E invece niente. Vedo che tutti abbiamo questo problema. Quindi ci sono quegli spazi dove ci sono, no, momenti in cui le carica. E invece adesso no. Tra l'altro io oggi ho anche dei lavori da pubblicare. Speriamo di recuperare in qualche modo. Merendina time con la mia nozzolata senza latte, che è quella a gusto fondante. E le galleccio. Tra l'altro vedete altro video che mi richiedete spesso, what I eat in a day. Solo che per quello mi devo organizzare bene. Magari un giorno in cui so che sono a casa sempre e riesco a registrare anche le ricettine. Perché odio what I eat in a day dove fanno solo vedere i pasti senza alcuni dei passaggi. Non dico di riprenderli tutti, ma la maggior parte. Cioè non avrebbe senso far vedere come cuocere il riso. Quindi sì, per questo ritorno su YouTube, perché come avete visto ultimamente sarò ripetitiva, ma tra una cosa e l'altra non sono riuscita ad organizzarmi preventivamente. Quindi vi ho lasciato un po' scoperti. Ma Ilaria c'è. Ilaria c'è. E' uscito fuori una festa improvvisa di amici, di famiglie, eccetera, eccetera. Quindi do se magna, noi se buttamo. Mi sono truccata in realtà per registrare il video. Niente, perché non l'ho fatto in tempo. Ma spero di registrarlo dopo. Anche se magari torneremo tardi, non fa niente. Perché appunto devo rimanere sveglia fino alle 3. Alla fine ho deciso che lo faccio, ragazzi. Lo faccio. Proviamo questa esperienza. Comunque il trucco che ho fatto è molto molto naturale. Le mie sopracciglia belle thick, il gloss ho messo e il fondotinta è quello nuovo di Nabla che mi sta piacendo da impazzire. E come vi ho detto anche su Instagram, io uso la colorazione L10 che probabilmente appena applicata magari è troppo chiara, però poi si va a ossidare e diventa esattamente, vedete, il mio colore. Quindi sono la tonalità più chiara e in base a questo insomma capirete. Poi stavo recuperando la puntata di Uomini e Donne, anche se... Gnaah, non è che mi piaccia tantissimo quest'anno. Sono quasi le 10. Qua c'è un casino, un bordallo che vi riprendo un attimino giusto per farvi vedere. Ecco mia madre qua che ride, la festeggiata. Io sto aspettando la torta che ha fatto la mia... Non so neanche come chiamarla, non cognatina, perché comunque è la fidanzata di mio cugino. Quindi Silvia, poi vedremo come sarà la torta. Per ora sembra molto gustosa e buona, ve la faccio vedere. Anzi, se siete di Roma e volete qualche torta, vi lascio il suo profilo magari in descrizione. Su Instagram così le scrivete. Lei l'ha chiesta così. Eccola qui, guardate che bella. Quindi aspettiamo sta torta, ragazzi. C'ho una fame di dolce. Eccomi a casa, ho registrato il video haul. Infatti adesso metto un po' a posto le cose qua sopra. Stavo finendo di recuperare la puntata di Uomini e Donne, quindi è quasi l'una. C'è ancora molto tempo da aspettare e appunto nel frattempo io metterò a posto. Però visto che non voglio ancora farvi una capa tanto con questa serie di tv, penso che vi darò direttamente la buonanotte adesso, anche se appunto io non andrò a dormire. Ci andrò tipo probabilmente verso le 4 e mezza, una roba del genere. Però spero lo stesso questo vlog vi abbia tenuto compagnia. A me ha fatto strapiacere. Mi manca sempre tanto vloggare. Rispetto a fare i video in postazione, come li chiamo io, vloggare è una cosa molto più scialla. Non so, ritiriamo fuori questo termine molto 2013-2014. Può essere fatto in qualsiasi modo, va sempre bene e sì, mi piace molto e so che piacciono anche a voi. Quindi io per ora vi saluto, vi mando un bacione immenso, grazie per essere stati in mia compagnia. Mi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto, fatemelo sapere. E ci vediamo con un altro video molto presto. Ciao! 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 Ciao